Antonio, anche tu sei calabrese, di anche tu un piccolo paese, come si chiama? Mirto-Crosia. Mirto-Cosia, in provincia di Cosenza, giusto? Giusto. Senti, come ti senti? Come stai? Emozionatissima. E' molto sensibile, quindi... Allora, facciamo suba, guarda... Una tigre, una tigre... Rita Pavone! Ed ecco l'energia te la dà questa donna, fantastica, fantastica. Tra l'altro tu non hai calcato tantissimo questo palcoscenico rispetto alla tua carriera? No, Sanremo non è stato il mio patrono. E' vero, è vero. E' vero, sì. Perché poi, voglio dire, invece... Allora, siete pronti per questa timida dichiarazione d'amore, d'amore sussurrata sottovoce, mentre il cuore vorrebbe gridare... A tutti! Fortissimo! Di Bruno Canfor e Lina Vermuller, fortissimo! Con il codice 08, canta Antonio Vaglica, con Rita Pavone! Applausi! Applausi! Pianissimo, te lo dico, pianissimo, questo piccolo ciao sottovoce, così nessuno capirà. Niente, e tu solamente, tu capirai quanto sono innamorata di te, di te, di te, di te, di te, pianissimo, devo dirlo, pianissimo, Questo piccolo ciao, mi dispiace doverti dire solo ciao, mentre in mezzo alla gente vorrei gridare... Fortissimo, 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 che ti amo, fortissimo, che ti amo, di più, di ogni cosa, al mondo, al mondo, amore, amo te... Io ti amo, ti amo, di più, di ogni cosa, al mondo, amore, amo te... Quando hai una personalità... Grazie! 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 Grazie!